La vittoria del gruppo della Rosa di Colorgano ha dimostrato di farsi trovare pronti, così Rafa Benitez definisce il netto successo per 3-0 sullo Young Boys, che considera anche un segnale importante per il futuro di questa stagione, per il Napoli che già domenica è di scena a Firenze. Credo che è importante per lui, importante per noi, e come ho detto prima, per sfruttare la Rosa, avere la possibilità dei giocatori che non giocavano e giocare oggi, e dimostrare il suo livello, è stato molto positivo per noi. Cambia, solo cambia, che tutti, avete visto, la sua qualità, che noi la guardiamo, la vediamo prima di comprarlo e dopo ogni allenamento, credo che lui e tutti i giocatori di attacco hanno fatto una buona prestazione. Poteva essere anche meglio, se poteva fare qualche gol in più, credo che dobbiamo essere soddisfatti con un 3-0 e con il vantaggio che abbiamo adesso per il gol a Verasic. Possiamo dire che rispetto all'andata non è cambiata la forma, ma la sostanza. Sì, parlando tra noi abbiamo pensato sempre che il primo tempo è stato bene là a Verna, secondo non tanto, oggi abbiamo fatto più o meno le stesse cose, abbiamo avuto l'occasione più chiara, ma credo che abbiamo mostrato, o loro hanno mostrato, il suo livello e per me questa è la cosa più positiva. I tre gol di De Guzman, lei come li legge per il giocatore? No, credo che sia stato importante per il tipo di gol che ha fatto, tutte e tre sono diversi e dimostra la sua capacità, la sua qualità e ripeto che questo sarà importante per la rossa, per la squadra, per il futuro, con la possibilità di cambiare una partita in corso, di iniziare una partita con un giocatore o con un altro, essere sicuro che può arrivare a un certo livello.